Un inno alla pace nel mondo, così il Vescovo della Diocesi di Tegiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, all'ottava edizione della Festa dei Popoli, il Festival Interculturale dei Popoli di varie etnie provenienti da tutto il mondo, che si è svolto nel fine settimana in Piazza De Marco a Pertosa. La festa ha omaggiato la pace, la fratellanza, la solidarietà, l'integrazione, la lotta contro ogni forma di sopraffazione e sfruttamento, ma soprattutto la libertà dei popoli. Lo slogan del Festival Interculturale, organizzato dalla Diocesi di Tegiano Policastro con la Caritas Diocesana di Tegiano Policastro e gli uffici migrantes della Diocesi di Salerno Campagna Cerno e di Tegiano Policastro, è stato proprio Popoli Ricercatori di Pace, un importante evento organizzato in collaborazione con il Comune di Pertosa e la Parrocchia di Pertosa e che ha visto tra le autorità partecipanti, oltre alla presenza del Vescovo Monsignor De Luca, il responsabile e coordinatore della Caritas Diocesana, Don Martino De Pasquale, gli amministratori dei Comuni di Pertosa con il Sindaco Domenico Barba, di Auletta Cagiano e Postiglione e del Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campagna, Franco Picarone. Alla centro della manifestazione è la cultura dei popoli provenienti dalle varie etnie, tra cui Polonia, Sri Lanka, Filippine, Ucraina, Romania, Peru, Cuba, Africa e Venezuela, che si sono esibiti dinanzi a centinaia di persone a suon di musica popolare, con abiti tipici del territorio di appartenenza e coloratissimi costumi della tradizione, cantando e ballando canzoni della terra d'origine. Non è mancato il momento enogastronomico, con le specialità cucinate dai cuochi delle varie etnie e gli stand di artigianato. Un momento di condivisione e scambio dunque tra le varie culture, per raccontarne le antiche tradizioni.